grazie ragazze benvenuti benvenuti in questo che è un video di presentazione di quello che da un po di tempo a questa parte soprattutto in live ben avevo iniziato ad accennare a parlarvi si tratta di pc m plus 2023 ora iniziamo a togliere subito a un dubbio dal tavolo avevo capito male pure io all'inizio e pensavo che la mod di cui ho sentito parlare che è stata sviluppato come vedete in basso a sinistra david e poi che è un sì una singola persona è un appassionato come noi di videogiochi e di ciclismo i quali a differenza nostra ha avuto la capacità di creare un programma da zero proprio su poste clean manager stava sviluppando il suo gioco di ciclismo per poi diciamo si è dirottato nella creazione di un tool quindi di una di un di un qualcosa di aggiuntivo diciamo proprio su poste clean manager io pensavo fosse una mod grafica ovvero che andasse sul sim workshop banalmente scaricandoti la mod grafica lui andava a cambiare quello che era il gioco invece attenzione questo voglio metterlo bene in chiaro non è una mod grafica di poste clean manager cioè non cambia l'interfaccia utente quando giocate a poste clean manager questo è il primo punto è molto importante non viene cambiato nulla poste che il manager rimane uguale quello che fa questa applicazione con applicazione di terzi è un altro programma che lavora a fianco di poste clean manager ovviamente è quello di avere molte ma molte più informazioni dettagliate in merito al vostro salvataggio ok come funziona c'è una versione free che ha molte meno possibilità di visualizzazione rispetto a quella che vi farò vedere io che vedete io sono un primo user l'ho pagato 6 euro una volta e tanti saluti vediamo come mi trovo quest'anno se la farà si rilascerà la stessa cosa per poste che il manager 2024 per esempio prenderà considerazione l'idea di comprarlo ovviamente ora voi vi ritroverete in questa schermata qui con scritto load latest e non avete niente qua sotto e load game quello che c'è scritto qui browse to a cbd file i file cbd sono i file di salvataggio delle vostre carriere facendo load game lui vedete via poi in automatico la la finestra con i vostri salvataggi noi andiamo a prendere la prima carriere uno che io so che è quella della liquigas lo vedete anche andando il caricamento di poste che manager magari vi farò vedere adesso la schermata quando andate a caricare salvataggi ci sono i nomi carri uno carri due carri tre poi sei chiesto uno forse chiesti due forse chieste dipende da quanti ne fate ovviamente sono si sono caricabili anche le carriere pro cyclist ma è molto più interessante come vedete qui quando è quello che può per quanto riguarda la carriera del da manager perché la possa equis siamo focalizzati su un unico ciclista e sugli obiettivi che deve raggiungere tutto il resto non ha molto senso da vedere sinceramente che non ha tutto senso che ce l'abbiamo adesso ora andiamo a vedere quello che è successo qui vedete la pagina di la home page diciamo in alto a sinistra vedete il nome della liquigas con la maglietta e il simbolo della nazione il nome del manager intero 89 che sono io appunto manager proviamo qua delle statistiche generali come vedete ci sono delle info in più che non è che non ci sono su cose che di manager ma sono disposte molto peggio lo dico è sinceramente questo programma qui andrebbe pareso e incollato su posti di manager per farci giocare su posti che manager così è importante mio avviso viviamo le partecipazioni recenti quindi vedete le ultime tappe del tour domanda che abbiamo visto in live l'ultima volta con gli arrivi a podio vedete qua abbiamo vinto qua siamo arrivati a podio abbiamo vinto il trofeo di lei gueglia che siamo arrivati secondi e la classificazione delle corse e le strade bianche che abbiamo visto ultimamente serati diciassettesimi con gruel dopodiché abbiamo le corse che stanno per arrivare quindi la milano sanremo latino adriatica la volta ciclistica catalunia sono tutti in calendario se non ricordo male qui ci sono le 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 corse più importante un riassunto delle cose più importanti le strade bianche è stata vinta appunto da roman bardet poi c'è la sanremo vedete qua la data di gioco voi per esempio in questo caso ho fatto le strade bianche dopodiché sono uscito dal gioco caricando salvataggio di vedere che data è 6 marzo 2024 chiaramente tutto in inglese ho già provato a contattare lo sviluppatore per chiedere se è in programma la posizione posso dare una mano io direttamente a tradurre tutta la il 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 programma perché non mi sembra così enorme come lavoro un bel po di lavoro ma non mi sembra una cosa impossibile non è come tradurre un gioco un gioco di ruolo non è come tradurre baldos gator come intenderci quindi penso di poterci a fare senza troppi problemi proprio per essere in inglese come vedete che siamo poi continental il database con cui siamo partiti la modalità di gioco carriera quale stagione siamo alla seconda e la versione di partenza del database del gioco qui vedete i team più forti con a overall di quello che c'è in gioco in questo momento i ciclissi più più importanti con poca c'è rossi banale e vene paul e l'info le info del team abbiamo fatto quattro vittorie in stagione siamo ventiduesimi come come classifica attuale abbiamo fatto 19 vittorie dall'inizio del nostro salvataggio e siamo 31 esimi come abilità in gioco quindi tra tutte le squadre e qui vedete i risultati più importanti le vittorie all'inizio del classic dell'anno scorso di ricchezza su tutte le vittorie di ricchezza che ci ha salutato quest'anno vabbè ok e qui vedete i campioni campione mondiale campione europeo capire mondiale a crono e l'europeo a crono vedo che la danimarca ha fatto bispo dopo di che ci sono un sacco di bottoni non tutti questi li avrete nella versione gratuita mi preme di precisarlo non tutti questi cosa possiamo andare a vedere il profilo il profilo questo è profilo della nostra squadra ovviamente liquida si vedete qua è molto carino perché ha ripreso le carte di fifa diciamo del foot molto interessante c'è la possibilità di prendere degli screenshot direttamente dalla dall'applicazione stessa che soltanto uno screenshot della liquida smessa così sarebbe magari anche carino da mettere come copertina del gioco della serie intendo why not qua ci dici da le informazioni su di noi siamo la liquida e ho scelto a random di guidare la norvegia quest'anno il mondiale d'europea mantanto non li gioco praticamente mai e qua sono i migliori risultati di sempre vedete le vittorie alla campionato italiano con ravanelli al giro dell'appenino con osorio questa qualcuno di voi se la ricorderà quella di quest'anno alla muscat classic la prima con il nostro ieri filosi e poi quello dell'anno scorso alla voletta provenire abbiamo vinto la classifica generale prima in montagna e una una come si chiama lo stage una tappa con ravanelli qui con ricchezza una tappa e la classifica generale al circuito delle ardenne seconde classifica in gara la milano torino con osorio l'anno scorso del risultato anche la veneto classic con brunel che ci ha salutato quest'anno e il trofeo di la iguaglia secondi con cool set quest'anno qui vedete la differenza vedete la liquida stanno scorso erano continental 25 esimi siamo arrivati abbiamo fatto 15 win in tutto l'anno ed eravamo più meno a livello stesso di abilità sì anche se secondo me abbiamo preso di chi si è più forte per lasciare andare via ci si più deboli e quest'anno siamo però continent al 22 esimi con già quattro vittorie a marzo qui i migliori ciclisti che abbiamo quindi messi in ordine di abilità cool set my offer gruel morgado van mechelen osorio ravanelli e cima dopodiché abbiamo i record che abbiamo diciamo ottenuto durante tutto il salvataggio to save game qui vedete che non abbiamo ancora vinto nulla se non due corse di tappa di di corse a tappe e una siamo una volta mi ha vinto un campionato nazionale non time trial quindi non la crono ma la corsa normale dopodiché possiamo andare a vedere per esempio lo scouting e questo è la parte secondo me più importante lo scouting in prossimi manager ad oggi è quasi inutile io ho fatto circa 45 anni tra l'anno scorso e quest'anno messi insieme e abbiamo trovato quest'anno quest'anno un ciclista degno di nota gli altri hanno un po hanno sempre lasciato molto a desiderare per esempio quello che non mi dice possa che i manager andando a vedere il il profilo del ciclista ma mi dice me lo dice possa che i manager class è per esempio su christian greco sono quelli completamente scautati completamente visionati non possiamo andare oltre christian greco di questa è la stata della scheda di ogni singolo ogni singolo ciclista questa scheda e tutti questo ma è uno scalatore italiano 17 anni non a squadra ovviamente qua c'è gli attributi il totale degli attributi tra l'altro mi fa molto ridere come in inglese alcuni attributi sono stati trasformati in italiano in maniera totalmente senza senso perché stamina resistance sono due cose diverse in una resistenza e combattività non ha nessun senso combattività mettere stamina non so quali le due per assurdo dove andrà contro l'arma non sono stati tradotti bene in italiano purtroppo come spesso accade poi vediamo lo sviluppo come vediamo che per esempio che sempre con dato migliorando poi leggermente peggiorando ma da solo senza nessun allenatore senza nessuna squadra sta comunque migliorando da solo e qui abbiamo report il report è la cosa più importante che c'è in posse che i manager plus questa cosa 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 qui la vedrete soltanto per ciclisti che avete fatto uno scout quindi i giovani o i ciclisti che abbiamo in squadra che abbiamo avuto in squadra sta cercando vediamo adesso se ogni tanto ricevono di riceve dei feedback il ragazzo che ha fatto questa mod questa questo programma è stato chiesto di poter diciamo fa uno scouting alla football manager cioè a chiunque a dire secondo te scout io vedo gli attributi ma secondo te questo è bravo o non bravo e da lasciare può migliorare cose che di solito non riusciamo a vedere perfettamente sono dei consigli in più per esempio qua ci dice di eric e recommended quindi è raccomandato da prendere come vedete i pro e contro in pieno stile football manager assolutamente il allenamento qua l'analisi del team non c'è perché non ha nessun team le statistiche migliori best potenza quindi il miglior potenziale collina il potenziale peggiore è sprint l'asse secondario e recupero quindi probabilmente questo ha fatto come asse scattista corse a tappe lo vedete stage race si avvicina molto a crime perché è un pelino sotto puncher che penso stia a definire gli scattisti ecco e questa la vedete per ogni singolo scout anche giugnian beckmann che un altro che mi hanno scoutato vedete report no future per esempio qua ci dici da dei consigli effettivamente vedete che qua effettivamente arriva a due stelle e mezzo non ha senso andarla prendere conclusione per cui ci arriviamo comunque possa che il manager normale ma così che manager plus ci dà quella cosa in più la cosa più molto interessante per esempio sotto teams andando in teams il programma ci impiega un attimo carica tutti i team tutti del database tutti per esempio io sono sempre stato curioso di sapere non avendo mai giocato mai un se non una volta per pochissimo tempo non avevo controllato un una squadra top la quick step all'epoca che mi sto sempre chiesto ma quanto pagano quanto pagano di salario totale e qua vediamo per esempio che la jumbo visma che a 29 ciclisti di cui sei stelle che ha un totale di pagamento diciamo di stipendi di un milione e due e miglior ciclista vingerat per esempio andiamo dentro possiamo vederla ecco qua jumbo visma come vedete le stelle che vingerat roglic van hight e van bahrle ovviamente con tutto il resto quindi cus la porta e poi chiaramente gli acquisti che sono stati fatti l'anno scorso è ovviamente ma vedete un milione e due per esempio ma io voglio vedere già una swing e guard quanto prende la swing e la swing a per 184 mila euro al mese quindi da solo pesa praticamente per quasi tutto il team è lui viene di più però qui possiamo possiamo avere un'idea e qua soprattutto per i grandi ciclisti vedete proprio i traguardi un pochino messi un pochino meglio soprattutto vediamo in bassa sinistra una cosa molto importante vediamo che per esempio io nasi che è arrivato al 6 di marzo al 92 per cento di bravura fisica al 20 per cento di fatica molto importante perché nelle strade bianche era stato dato come favorito pauless se vi ricordate pauless io ero andato a vederlo in live mi sembra ma molto fugacemente pochissimi di voi c'erano mi sembra che rapporto su twist qui lasciamo perdere è andata a vedere proprio questa pauless uno dei favoriti delle strade bianche vediamo come ha messo di fisico ed era messo con molta fatica tant'è che poi quando adesso andremo a vedere velocemente questo video diventa enorme quando andiamo a vedere le corse e diciamo il sommario delle corse in avvenire ancora che devono ancora essere corse c'erano delle perplessità sul stato fisico punto di paolo estante che paolo abbiamo superato erato dietro di noi alla fine della fiera uno dei favoriti è arrivato dietro di noi quindi molto importante questa cosa secondo me da da tenere conto questo è per tutti i ciclisti vedete lo sviluppo qua report non c'è perché non lo vedete come vedete una timeline di quando è diventato però ogni singolo ciclista i grandi risultati che ha raggiunto quelli stagionali il palmarès nel 2024 2022 23 22 21 20 e vedete tutto quello che c'è possibile la storia un po come su football manager ripeto è stato fatto un gambe questo ragazzo cercato di mettere insieme un po di football manager un po di manager e un po di manager insieme a quello che possa rimanere la fazione un gran lavoro si può fare una comparazione veloce e delle azioni come esempio add to shot list aggiunge la lista la nostra lista di ricercati famose che abbiamo messo tempo fa questo per tutti i team e ogni singolo ciclista ovviamente ha la sua scheda se non stiamo qua a vederla ma vedete qua potete fare una ricerca ovviamente limitata a 250 risultati sono più di sono più di 5 mila ciclisti non mi ricordo e potete metterli chi è più forte in montagna per esempio e vedete qua vedete in ordine non sono in ordine adesso sono in ordine ci schiacciate sopra li metti in ordine adesso schiacciate perfetto vedete 82 81 80 79 vedete i più forti vedete la data di scadenza del contratto minimo reddito che abbiamo un po di soldi voglio prendere aresman perché secondo me spacca tutto nei prossimi anni ti fate un'idea prende 54 mila euro scala 2024 poi ci sono tutte informazioni che abbiamo super sexy manager per questo che questa mod questo programma esterno non è fondamentale ma a mio avviso è super comodo averle tutte in un'unica sacrosanta schermata perché non è normale doveva fare 12 mila avanti e indietro se fosse che il manager assolutamente qua ci sono tutte le varie tutte le età le abilità se vi avrete magari voglio prendere dei solo italiani che sono bravi in per esempio in come come scalatori è perfetto lo mettiamo in ordine per più forte giudio ciccone scade il 2024 possono dalla prendere voglio un giovane c'è tiberi per esempio che scade porta due anni quindi niente 24 anni filippo zana 25 per esempio potremmo andare a cercare un alessandro verre che è dell'archea prende poco ed ha delle ottime statistiche andiamo a vedere uno va dentro non c'è il report ovviamente però possiamo vedere profilo e lo sviluppo ok è migliorato potrebbe migliorare ancora chi lo sa dove mandarla ricercare questa cosa qui la sta aggiornando programmatore secondo me metterà la possibilità dei qui di mettere un report che poi verrà fatto uno scout alla football manager banalmente qui per quanto riguarda le corse secondo è poi l'ultima cosa interessante per adesso è un repito di tante altre cose e si è chiuso giustamente ovviamente ogni tanto capita ragazzi a me oggi già la seconda volta l'altra volte o sono stato anche dentro un'ora e mezza senza aver nessun problema ripeto un po di pazienza un programma fatto da un singolo cristiano in un anno e più di lavoro quindi va bene torniamo alle corse andiamo alle corse qua vediamo tutte le cose che sono presenti in calendario adesso ci prendo poche regali perché il database enorme per esempio noi possiamo andare a vedere che una la prossima che doveva andare a affrontare tra pochi giorni è proprio la milano sanremo io voglio andare a vedere avete parte in 12 giorni c'è già la line up scusate quindi in tutte le vala start list di tutte le squadre 18 world tour e 7 portcontinental ci saremo dentro anche noi possiamo andare a vedere i risultati che non ci sono ancora questi sono i risultati a corsa finita la storia dal 2023 l'anno scorso fino al 2007 per esempio vinto da oscar fraere così a random fino al quinto in plan ed ci sono i favoriti di quest'anno pedersen hanno de lì timmeria e pippo ganna e tutti i vari team ci siamo dentro anche noi vedete che liquidas 168 ciclisti 6 stelle e la forza del gruppo che arriva qua cinque stelle e mezzo preview è quello che ecco i favoriti eccoli qua quindi vedete qua un profilo veloce milano sanremo pianeggiante è una norma stage quindi non è una corsa tappe con la classica o la distanza di 295 chilometri con 1638 metri di dislivello le recette performance migliori sono vander per che ha vinto la omelope race appena salvato secondo la stessa corsa asgan che ha vinto la kbk non so quale sia merriè ha vinto una tappa alta parigi inizia importante van barley che è arrivato terza la sam in cose importanti metti us è arrivato due volte a podio negli scorsi anni vander per l'anno scorso e qua vediamo una cosa molto interessante fitness con sam consens for vander poi sono dei preoccupazioni di salute di di benessere fisico diciamo di di stato fisico di van der pearl perché se andiamo a vedere mattia che campione olandese guarda qua è infortunato e in fondo lui non ci sarà è nella linea poi non ci sarà vedere ovviamente questa cosa qua ok per l'altra corsa per la storia che ce ne erano altri due che erano in corso che sono che hanno corso che non erano in forma per esempio peders quanto sa bene campione europeo poco guardate quanta tanta fatica è al massimo di fitness ma la fatica è già il 23 per cento e vuol dire tanto è vuol dire tanto hanno dei lì è già più pericoloso è solo 91 di fitness ma solo 11 di fatica pippo ganna come può stare pippo ganna un altro molto pericoloso e da qui voi potete andare precedentemente alla corsa andare a vedere chi è che può vediamo michael matthews michael matthews non ha non presenterà quasi nessun pericolo nonostante lui uno dei suoi obiettivi da minano saremo al 36 per cento di fatica è tanto è tanto ragazzi è tanto quindi secondo me michael matthews non sarà della della corsa diciamo per i migliori ma avete la start list di tutti i ciclisti quando sono già confermati quindi sottodata diciamo vedete che abbiamo la nostra stati possiamo cambiare chiaramente la stana non l'ha ancora messa la line up per esempio ma noi lo abbiamo è più o meno confermate questa e possiamo vederla quella di tutti noi abbiamo siamo a tre stelle e mezzo come la bardiani come l'elokometa un po meno rispetto alla gdr la total energies per esempio ma non così tanto indietro rispetto anche tanti altri ovviamente c'è chi è arrivata un pochino più cattiva diciamo questa questa corsa come la qui step ma in eos come la jumbo per esempio e press qui potete vedete podium results che se il risultato del podio ma noi possiamo andare in team presentations per esempio prendere la liquida scriviamo la presentazione della nostra squadra vedete con la possibilità di vedere che è la prima volta che è la prima volta per tutti qua sotto ci sono dei risultati eventualmente se sono stati raggiunti negli anni prima possiamo andare a vedere una molto una cosa molto bella in podium presentations e signori questo è questa è veramente carina guardate qua c'è la nostra liquida che fa la presentazione prima della corsa con lo sfondo milano sanremo con l'hashtag milano sanremo la gazzetta dello sport con loro con gli vari sponsor dietro e con le varie stelle vedete troia ma me che nel maniere offer cool set morgado ravanelli e quindi sono è molto carina questa cosa qua è per questo che dico che dovrebbe essere implementato in post e clean manager completamente preso quasi copia in colla quello che rimane sono gli under le le i paesi intesi come nazioni vabbè hanno diciamo senso se volete andare a vedere come stanno le varie nazioni col belgio quanti ciclisti ci sono quante stelle per esempio l'italia 590 ciclisti che più ciclisti di tutti ma con solo due stelle per esempio qua vedete il miglior ciclista il campione attuale e i campionati del mondo vinti ed europei vinti a seconda delle varie cose lander mentita come vi dicevo è una panoramica dei migliori giovani senza aver fatto scouting noi sappiamo che sto nemite è uno dei migliori che però andata la cultura i valori per i prossimi due anni se non ricordo anche di questo l'abbiamo perso fino a due anni ticini tanti salute stanno a mettere mi sa che non tornerà di metà più forte come sempre vedete c'è un professor paul magné questo paul magné che ha 19 anni a 75 montagne tanto aveva corso l'anno scorso ha fatto due vittorie quest'anno non è andato da nessuna parte perché la trinity racing l'ha mollato e nessun altro l'ha preso questo potremmo metterlo per esempio fare così a tu shop list poi vi faccio vedere come trasportare la cosa in prossimi manager quindi noi abbiamo aggiunto ecco possiamo darci un'idea la reputazione migliore più alte dei giovani in stagione quante vittorie quante top 10 vedete questa pagina include tutti i cicli sunday 23 messi per anno d'età che non sono parte di un di un team world tour pro continental quindi i nostri che siamo pronti nato non ci sono per il nostro odermatt che wonder kids and andiamo a vedere velocemente me lo sono dimenticato non c'è se non ci sarebbe stato qua se fa parte di un continental come per esempio casper anderson che fa parte della agnes berman action è veniamo se ho ragione io continental vedete esattamente come dicevo io poi nella statistica monica nel posto diciamo un mondo che vedete un altra pagina di epilogo di tanti tanti dati qua c'è calendario calendario totale che potremmo mettere player schedule sulla nostra scheda che abbiamo messo giù queste sono le cose che ci stanno per attendere convincitori e best player team quindi il nostro miglior ciclista dove è andato a finire recenti e in in corso e vedete qua un po di informazione vedete o gatti è infortunato fino ad aprile poveraccio cool set me roffia morgado van mechelen osorio cima cristen pinazzi eccetto non sono in massima forma sono stati sono nati in tanti bene perché dobbiamo fare la sede bianche la mediteriana adriatico abbiamo fatto salemi anche latino adriatico non saremo la la milano torino la per sempre sono nella settimana internazionale coppie batteri vedete che sono tutte in una settimana e mezzo per lei tra sexo classic spesa planning qua ci dobbiamo tornare più avanti perché o meglio no scusatemi planning qua ci possiamo tornare adesso sono i gran tour l'overview dei grandi giri quindi il giro d'italia tour de france e la vuelta con i favoriti di tutte le varie cose chiaramente le stelle è un altro aggiornamento è un'altra pagina vedere i migliori del gioco cosa hanno come obiettivo per esempio ringa dalla amstel la faccia all'ora in a liegi tour de france e campionato europeo e lombardia che sappiamo diciamo con il loro team e con i compagni di squadra scusatemi tanto mischio di italiano all'inglese perdonarmi questa cosa qui planning meeting la dobbiamo vedere la prossima volta perché come vedete è solamente a gennaio che potremmo vedere planning meeting quindi è un qualcosa è un qualcosa che possiamo mettere in al primo di gennaio quando quando inizia la stagione che dovete dobbiamo fare tutte le varie corse metterle a posto sistemare picchi di forma eccetera qua la farà in maniera automatizzata un po come se fosse anche qui in stile football manager le riunioni avete presente che fanno mille domande ecco qua però sono mille domande che sono poi focalizzate a sistemare in automatico il calendario ed è una cosa che io apprezzo tantissimo lo vedremo lo vedremo all'inizio la terza stagione con la liquigas ma vediamo i ranking che sono e per ciclista squadra e nazione ma questo è assolutamente uguale a quello che abbiamo su cosa che rimanagiano modifiche l'hanno migliorato tantissimo quest'anno fortunatamente anche forse che il manager quindi bene e qua abbiamo stagione sono le cose migliori avvenute stagione quindi strade bianche la e3 la fiandre non sarai ma basso tutte messe così most popular races le classiche basta sono le corse a tappe solo i campionati nazionali europei e mondiali per l'anno scorso per quest'anno tutti allora se voi avete preso come me la versione a pagamento vedete tutti gli anni se voi avete per esempio ho fatto cinque anni già ok e volete prendere volete provare la versione gratis che vi consiglio caldamente vedete solo gli ultimi due anni poco male che vedete che campioni italiano se una roma di vigas per esempio storia championships champions vediamo al 2023 con tutti i campioni vedete proprio nazionali delle nazioni più importanti è un overview che un'altra pagina di diciamo di diciamo questa è la pagina dei momenti se avete presente su forse che il manager che vi fa vedere tutti i grandi risultati dei grandi giri dei monumenti anche in totale nazionali le classiche le cose a tappe importanti vedete la tua è stata vita pagina bilbao per esempio vediamo l'anno scorso si valorizza per tutti e qui avete un aggiornamento di quello che è successo per i più spippolatori di statistiche questa è una cosa molto interessante e qui si conclude il nostro viaggio in poste che manager plus perché come vedete non c'è un bottone per andare avanti l'unica cosa che avete fatto se avete fatto delle modifiche come per esempio che ho aggiunto la shortlist quel giovane che adesso lo andiamo a vedere anche il poste clean manager se l'ha preso questo dovrebbe essere paul manier che l'ho messo esatto noi facciamo rotellina in alto save game vedete le modifiche abbiamo fatto abbiamo aggiunto paul manier alla shortlist facciamo save changes in basso a destra selezioniamo lasciamo selezionato carrier one facciamo salva e già sovrascriviti file si lo sovrascrive salvataggio fatto con successo andiamo velocemente a vedere se si è aggiunta alla lista su poste che il manager ok ora siamo in poste che il manager se ma te riconosciamo molto molto bene facciamo carica tra i rwan vedete il cognome va bene lasciamo perdere il nome del salvataggio squadra liquida stagione 2 che in adriatico tappa 1 di 7 carica quello che deve a vedere se c'è quel giovane nella lista subito è l'unica modifica che abbiamo fatto ma si sono delle modifiche che possono essere che possono finire dentro lì assolutamente vediamo lista allora vediamo un attimo per squadra non la squadra o aveva spazio che non mi ricordo questi sono i nostri si esatto non lo vedo vediamo se lo vediamo così ovviamente non mi ricordo manco più il nome ma non è di questi tre era senza squadra ecco qua no è paul manier si 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 eccolo qua perfetto non avevo riconosciuto il nome vedete che qua abbiamo si capacità abbiamo delle valutazioni del potenziale possiamo capire tante cose la un pochino più esteso perché non vediamo nient'altro l'evoluzione migliori risultati la carriera si c'è anche qui messa un po peggio secondo me però c'è anche qui per esempio fatto due vittorie l'anno scorso però l'anno era entrato nei paesi poi non ha più continuato e non abbiamo inserito ovviamente questo ragazzo è senza contratto e a secondo me non serve neanche avvicinarlo potremmo aggiungere potremmo prenderlo l'anno prossimo per fare da aiuto a cool set poi avrebbero hanno la stessa età quindi sarebbe perfetto per la nostra squadra assolutamente quindi questo è un diciamo porse che manager plus quello che volevo presentare oggi quindi sono molto contento vi ricordo non è una mod di una mod che si installa sopra porse che manager vedete che è rimasto uguale forse che manager sempre così è un programma quello viene chiamato in gergo un tool quindi un un programma esterno una compagnon app un'applicazione che fa diciamo assistenza al gioco che vi permette di andare molto più in profondità in tante cose e di vedere lo stato di forma di tanti ciclisti quello non lo potete vedere normalmente però potrebbero essere delle informazioni che uno scout un qualcuno che vede le cose dice sì non l'ho visto molto in forma negli ultimi allenamenti non dato benissimo sono cose che possono essere assolutamente diciamo carpite dalle altre squadre e noi con porse che il manager plus lo possiamo raggiungere lo possiamo vedere anche noi detto questo chiudo qui perché video è incredibilmente enorme però dovevo farvi vedere tutto quello che c'era da vedere il poste che manager plus e ve l'ho fatto vedere il questo programma è acquistabile dal link sotto in descrizione che vi metto e non prendo nessuna commissione e non mi è stato chiesto di fare questo video assolutamente l'ho fatto io perché volevo farlo io verrà da mesi che seguivo di questa cosa e volevo farvela vedere spero di poter dare una mano direttore essere io andare a fare la la traduzione in italiano per tutti voi c'è la versione gratis scaricata la versione gratis provate la versione gratis se non dovesse piacervi bene se invece ve la trovate importante la trovate utile potete scaricare quella pagamento a 5 99 di 6 euro banalmente una volta sola non si fare nient'altro detto questo ragazzi o quello che vi dovevo dire ve l'ho detto vi do appuntamento ai prossimi episodi di prosecco di manager quindi con la vdp gas qui e con il nostro france kaiser alla prossima ragazzi andate a dare un'occhiata a pc m più pc and plus lo trovate gratis la versione gratis ragazzi scaricate la tante di un occhio dati provatela poi mi verete a dire qua sotto nei commenti che non vi serve che una cavolata che figa che l'avete comprata però provatela perché secondo me quella roba lì deve essere dentro qua al cento per cento alla prossima ragazzi